Buona sera Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Parliamoci Chiaro, domenica 12 giugno si vota in programma il referendum sulla giustizia, 5 i quesiti, ne parliamo questa sera con una trammissione speciale dedicata a questa tornata elettorale, anche perché non se ne è parlato molto, lo possiamo dire, in queste ultime settimane del referendum di domenica. Noi abbiamo cercato dal nostro punto di vista, dal nostro canto, di dare un contributo al dibattito, con una serie di approfondimenti nel telegiornale e anche questa sera, perché al di là di quello che può essere il pensiero di ognuno di noi al riguardo del tema oggetto del referendum, crediamo che ogni tornata elettorale sia un'occasione importante di democrazia per dar voce agli elettori. Dunque stasera siamo qua ovviamente con ospiti che rappresentano i vari punti di vista sul referendum. Saluto e ringrazio Daniele Spada della Lega, buonasera, tra i partiti che hanno promosso il referendum e dunque per il sì. Tommaso Cocci di Fratelli d'Italia, buonasera, partito che al riguardo ha una posizione differenziata sui quesiti, in questa prima parte analizzeremo i primi due quesiti sui quali Fratelli d'Italia è schierato per il no, poi per gli altri invece, come ci dirà anche Cocci, è una posizione diversa. Poi nella seconda parte avremo un altro ospite, Luca Mori, referente di democrazia costituzionale. Intanto saluto in redazione Lucrezia Sandri che ci darà una serie di informazioni utili e di curiosità nel corso della trasmissione. Ciao Lucrezia. Ciao Giancarlo, buonasera ai nostri ospiti e ovviamente ai nostri telespettatori. E noi vogliamo partire subito intanto con un primo servizio relativo a uno dei pochi incontri che si sono tenuti qui su Prato negli ultimi giorni, un'iniziativa promossa da Forza Italia con le interviste realizzate alla parlamentare Enrica Mazzetti e poi all'avvocato Gabriele Terranova, presidente della Camera Penale di Prato. Ascoltiamo intanto queste interviste e poi entriamo nel vivo del dibattito. Noi abbiamo deciso già ormai dal 27 maggio di mettersi in attivo per proporre questo referendum, un referendum fondamentale per la libertà di ciascuno di noi, perché a ognuno di noi può essere successo, può succedere o potrà succedere di avere dei problemi con la mala giustizia. È un referendum a cui noi crediamo tanto, sono 28 anni che il nostro presidente sta lottando per avere una riforma giusta della giustizia, ahimè politicamente nelle aule di governo e parlamentare non è riuscita a farla come la vogliamo fare. Ora i cittadini hanno una grande opportunità, quella di andare a votare, perché troppo poco si parla di questo referendum ed è proprio per questo noi come Forza Italia, forse l'unico partito pratese, che in questi mesi si è impegnato a fare una battaglia forte affinché le persone andassero a votare. Lei questa sera parla a nome degli avvocati penalisti di Prato o c'è una maggioranza schiacciante per il sì? Come si spiega? Tra gli avvocati si spiega perché comunque le Camere Penali, che sono le associazioni che raccolgono i penalisti, sono storicamente sempre state impegnate nel sostenere delle campagne finalizzate a riforme che in certa misura riguardano le tematiche o alcune delle tematiche che oggi sono oggetto di questi referendum. Quindi sicuramente questi referendum possono essere una spinta nella direzione in cui noi abbiamo sempre lavorato, anche se non sono referendum promossi e sostenuti dall'origine dalle Camere Penali. Questa è l'intervista organizzata in occasione dell'incontro promosso da Forza Italia, moderato dal direttore di TV Prato Gianni Rossi, chiaramente come abbiamo sentito schierata per il sì, però abbiamo voluto proporre questa intervista e soprattutto per riflettere su un aspetto che è quello che dicevo inizialmente, ovvero la scarsa informazione che è stata fatta su questo referendum e partirei da Spada, anche perché Spada l'abbiamo intervistato anche nel nostro telegiornale qualche giorno fa, da circa una settimana ha voluto avviare uno sciopero della fame per protestare proprio su questo tema. Esattamente, è da venerdì scorso e conto non solo i giorni ma anche le ore. È stato indetto da Roberto Calderoli, senatore della Lega e quindi una campagna nazionale alla quale ho aderito volentieri che è un grosso sacrificio, ma credo che sia importante perché è una battaglia di giustizia e di libertà. Devo dare atto, come disse anche all'intervista, che TV Prato ha fatto un ottimo lavoro, sta facendo un ottimo lavoro, questa trasmissione ne è testimone, ma tutta l'attività che avete fatto in queste ultime settimane. Non è stato così per tanti altri organi di informazione, sia soprattutto nazionali ma che anche locali. Ecco, Mazzetti diceva come Forza Italia siamo forse gli unici a aver, come dire, in qualche modo fatto informazioni, incontri. La stessa Lega, è vero a livello locale, almeno incontri non ce ne sono stati, questo lo possiamo dire. Forse poteva essere fatto qualcosa di più. No, ora, glissavo perché non amo le polemiche, ho visto che lei mi ci infila e dico che all'amica Erika Mazzetti probabilmente è stata distratta un po' dall'attività a Roma e non ha visto Prato, ecco, perché loro hanno fatto questo convegno interessante l'altra sera. Insomma, la Lega sono settimane che fa banchini informativi con distribuzione di materiale informativo in centro a Prato, a San Paolo, poi a Giaccaiano. È l'unica che si è messa lì con il secchio di colla e lo spazzolone per attaccare i manifesti. Insomma, la Lega ha fatto tanto, è stata veramente impegnata in questo. Benvenga l'attività anche degli altri partiti come questo convegno dell'altro giorno, per carità. Cocci, va bene, intanto una cosa fatemela dire, è curioso vedervi su posizioni contrapposte dopo che alle ultime amministrative siete stati letti della stessa lista, anche se poi avete preso sempre nell'ambito dell'opposizione centro-destra due strade. Assolutamente paralleli, sarà difficile darle del lei. Stasera, insomma, almeno questa prima parte della trammissione, rappresentate due punti di vista diversi, come vedremo fra poco, sul referendum. Intanto, anche con Cocci, il suo pensiero sul tema della scarsa informazione attorno a questo referendum e poi, allo stesso tempo, le chiedo di specificare e chiarire meglio un po' quella che è la posizione di Fratelli Italia che, come dicevamo, è per il no ai primi due quesiti diversamente per gli altri. Sicuramente da un punto di vista dell'informazione abbiamo visto uno scarso interesse e per quanto riguarda il partito di Fratelli d'Italia è sicuramente sempre un'occasione persa quando non si informano i cittadini, in questo caso sembra che non si siano voluti informare i cittadini su un tema assai importante. Noi, insieme agli alleati della Lega e di Forza Italia, abbiamo raccolto le firme per gli ultimi tre quesiti referendari, perché avevamo una contrarietà verso i primi due. Qui viene anche la posizione di Fratelli Italia, una posizione articolata, sui primi due quesiti un no, un no convinto, ma un no che non è critico invece nei confronti della situazione vigente sulla normativa e tre sì molto convinti in merito a quelli che riguardano i rapporti interni alla magistratura e alla separazione delle carriere. Ma c'è bisogno di cambiare la giustizia e di riformarla in Italia secondo voi? Assolutamente sì, i risultati che vediamo non sono confortanti, l'utilizzo politico della giustizia e anche i metodi di valutazione della giustizia stessa. Per esempio uno dei quesiti riguarda i collegi giudiziali dove si fanno le valutazioni delle carriere dei giudici, lei potrà vedere che il 97% delle valutazioni dei giudici sono valutazioni ottimali. Questo perché nei collegi dove si valutano i giudici ci sono i giudici stessi, questo è un sistema troppo. Un conto è l'autonomia della magistratura e della giustizia, un conto è l'arbitrio totale anche in determinate situazioni. Prima di entrare nel vivo e partire dalla scheda dedicata al quesito numero uno, Lucrezia se ci ricordi un po' in grandi linee come si sono schierati o non schierati i vari partiti, le varie forze politiche riguardo a questo referendum. Sì, come hai ricordato tu all'inizio, il referendum è stato promosso da Lega e Partito Radicale, quindi la Lega e il Partito Radicale insieme a Forza Italia, Azione e Italia Viva sono convintamente per il sì a tutti e cinque i quesiti referendari, più articolata come abbiamo sentito la posizione di Fratelli d'Italia all'interno del centro-sinistra, il Partito Democratico ha lasciato libertà di coscienza. Però c'è una dichiarazione del segretario Enrico Letta che ha specificato che la vittoria del sì sarebbe un problema perché una riforma compatta della giustizia non si può fare con i referendum abrogativi, ha detto il segretario Dem, mentre è stato netto il no del Movimento 5 Stelle. E allora partiamo subito con il primo dei cinque quesiti che riguarda l'incandidabilità dei politici condannati in primo grado come previsto dall'attuale legge Severino. Vediamo. Il 12 giugno i cittadini sono chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia, un pacchetto di cinque quesiti che vanno dalla legge Severino alle misure cautelari e ancora funzioni dei magistrati, candidature al CSM e consigli giudiziari. Per quanto riguarda il primo quesito la domanda sarà così formulata. Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235, testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1,63 nella legge 6 novembre 2012 numero 190. Il quesito è abrogativo, quindi chi sceglierà sì deciderà di abrogare la legge Severino che prevede che parlamentari, rappresentanti di governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali siano incandidabili, ineleggibili o decadano automaticamente dalla loro carica in caso di condanna. La legge che porta la firma dell'ex ministro della giustizia Paola Severino ha valore retroattivo e prevede anche a nomina avvenuta la sospensione della carica pubblica se la condanna avviene dopo l'elezione del soggetto. Per coloro che sono in carica in un ente territoriale basta anche una condanna in primo grado non definitiva per l'attuazione della sospensione che può durare per un periodo massimo di 18 mesi. Secondo il comitato referendario che promuove il sì, la legge Severino ha esposto amministratori della cosa pubblica in debite e intrusioni nella vita politica e ha danneggiato sindaci e pubblici ufficiali che poi sono stati assolti. Secondo le ragioni di chi sostiene il no e quindi desidera mantenere la legge in vigore, questo quesito è particolarmente odioso perché abroga l'intera disciplina riguardante la decadenza e l'incandidabilità degli eletti condannati con sentenza definitiva a una pena superiore a due anni. Spada, parto da lei, perché questa è una legge secondo voi da abrogare? Beh, direi che intanto, scusate, è stato ben spiegato nella scheda introduttiva. È un qualche cosa che va a punire specie gli amministratori che amministrano e che possono vedersi sospesi dal proprio incarico anche senza una condanna definitiva. È un qualche cosa che giudichiamo assolutamente iniquo. Tantissimi, tantissimi casi, troppi casi si sono verificati di persone costrette a allontanarsi dalla vita politica in base a questa norma e poi dimostratesi innocenti. Mi preme, siccome era detto anche nella scheda e per anticipare anche le obiezioni del collega e amico Cocci, viene detto, dice, ma appunto si fa sì che abrogando la legge Severino, che chi è condannato possa invece rimanere. Non è così, ricordiamolo. Viene abrogato l'automatismo che è previsto dalla legge. Rimarrebbe poi il giudice che avrebbe tutta la facoltà di applicarla. Quindi ecco, non è che, come ho sentito dire spesso, che così si fa sì che i condannati possano restare al loro posto. Assolutamente no, ecco. C'è la possibilità del giudice di applicare. Cocci, la domanda apposta invece perché Fratelli d'Italia si schiera per il no e dunque a difesa dell'attuale normativa. Fratelli d'Italia si schiera per il no non vedendo quelle che sono le storture della legge Severino, lo diceva il collega Spada, anche vi sono decadenze anche per sentenze non definitive. Questo è sicuramente un profilo da valutare. Tuttavia, per quella che riguarda la nostra tradizione anche di legalità, riteniamo che l'automatismo invece della decadenza dalle cariche elettive di fronte a delle sentenze definitive sia un principio giusto e per questo siamo contro l'abrogazione totale della legge Severino. Anche se sosteniamo da un punto di vista politico l'esigenza di andare a modificare quelle parti che riguardano invece le sentenze non definitive che poi vengono spesso ribaltate. Ecco, se vi chiedessi, la legge Severino ha contribuito in qualche modo a moralizzare la politica fino ad oggi? Cosa mi rispondete? Cocci. La politica la dovrebbero moralizzare i partiti e le strutture. Io sono un sostenitore delle strutture e dei partiti. Sicuramente è uno strumento dissuasivo o almeno è uno strumento che in alcuni casi, soprattutto in alcuni contesti italiani, può sicuramente avere la sua valenza, ma non credo nella funzione moralizzatrice delle leggi in alcun modo. In questo sono assolutamente d'accordo. La moralizzazione della politica si fa con la cultura politica, con lo studio della politica, con la partecipazione alla vita politica, non con questo tipo di leggi che appunto io sono assolutamente favorevole alla problematica. Il quesito numero due invece riguarda le misure cautelari. Allora, ascoltiamo anche questo servizio nel quale abbiamo riportato le dichiarazioni del senatore Guglielmo Picchi della Lega e della senatrice Grazia D'Angelo del Movimento 5 Stelle. Referendum sulla giustizia. Il secondo quesito chiede ai cittadini di abrogare la reiterazione del reato dai motivi per i quali i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo. Con l'eventuale abrogazione la custodia cautelare rimarrebbe per coloro nei confronti dei quali sussiste il concreto e attuale pericolo che commettano gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata. Ascoltiamo le ragioni del sì e del no. In Italia per troppi anni si è abusato della carcerazione preventiva e il Parlamento in tutti questi anni non è riuscito ad abbattere un muro che è quello del giustizialismo, che la cultura dei grillini e anche della sinistra italiana hanno sempre fatto proprio. Con il referendum c'è un'opportunità per tutti i cittadini per poter mettere fine agli abusi della carcerazione preventiva. Quindi il sì il 12 giugno è importante per il garantismo di questo Paese. Se dovesse passare il sì a questo quesito si verrebbe a creare un vero e proprio vulnus per quanto riguarda alcuni tipi di reato. Io ci tengo a mettere in evidenza proprio questa casistica che è quella dei reati legati alla violenza di genere. Perché proprio per quanto riguarda questo specifico tipo di reati la reiterazione è insita nel reato stesso. Quindi toglierebbe uno strumento importantissimo ai magistrati per poter prevenire delitti ulteriori, reati ulteriori. Riparto da D'Accocci. Picchi parlava di abuso di questa misura, del ricorso alle misure cautelari. Ecco lei è d'accordo? Se ne è fatto davvero un abuso? Su questo sono assolutamente d'accordo con l'onorevole Picchi. Però come Fratelli d'Italia siamo contrari perché anche qui vediamo, non siamo contenti in maniera assoluta dell'utilizzo anche della carcerazione preventiva ed anche lì insomma sono norme con le maglie abbastanza ampie e quindi possono portare anche il giudice che debba applicarle in maniera talvolta impropria. Poi come si vede poi successivamente nello svolgimento del processo, ad ogni modo è uno strumento quello della custodia cautelare in merito al pericolo della reiterazione anche del reato che non può essere tolto così simpliciter. Insomma con fatica quindi mi trovo a intervenire dopo la collega del Movimento 5 Stelle perché insomma la collega, non la parlamentare, quindi è anche troppo, però sostengo quello che diceva la parlamentare del 5 Stelle nel senso che in alcuni tipi di reati per cui non ci può essere invece quella la fattispecie che veniva riportata nel servizio ossia il grave delitto con l'uso di armi, ma si pensa a un reato come lo stalking che non ha nell'uso di armi, nel sangue, nel delitto stesso, però reati molto odiosi che spesso sono portati alla reiterazione e soprattutto anche nei confronti delle donne. Quindi non un utilizzo, Fratelli Italia non vede un utilizzo cristallino della carcerazione preventiva, assolutamente no, però l'abrogazione di questa norma in pieno la vediamo come un pericolo per alcuni tipi di reato e per questo siamo per il no. Su alcuni, al di là del vostro pensiero di un abuso di ricorso a queste misure, però in effetti su alcuni casi spesso riflettiamo, le cronache ci portano a dire che quel soggetto doveva essere ad un ucidario, quel soggetto era libero e ha tornato dunque di nuovo a commettere quel reato o ancor peggio, dunque questa è sicuramente una riflessione da fare e che giro anche la spada che invece è per il sì ovviamente a questo consiglio. Le rispondo volentieri, mi permetta, visto l'intervista fatta all'On. Picchi mi è venuto in mente, che mi ero dimenticato di citare prima tra le tante iniziative della Lega anche una scena con centinaio di persone dove appunto intervenne l'On. Picchi, l'On. Calderoli, la segretaria, il tesoriere nazionale dei radicali, insomma è una tra le tante attività che come Lega abbiamo fatto, me l'ero dimenticata prima, mi preme citarla, è la risposta. E no, venendo sul quesito, allora io credo che sia palese per chiunque è in buona fede e abbia l'età della ragione dire che c'è stato e c'è un abuso della carcerazione preventiva in Italia. Noi siamo per limitarlo assolutamente perché è una cosa di inciviltà giuridica l'abuso della carcerazione preventiva. Riguardo alle obiezioni in particolar modo dell'On. dei 5 Stelle dove fa riferimento alla violenza di genere, devo dire che non è che sia proprio così la cosa, nel senso che, come accennava lei, spesso si trova chi ha fatto un delitto di sangue libero. Non è una questione relativa al discorso di questo quesito sul referendum, perché sono esclusi dalla abolizione della recidiva tutti i reati più gravi e quelli di violenza. Ora, io non sono un principe del foro come il mio collega, però insomma ormai tanti anni fa una laurettina in giurisprudenza l'ho presa e mi ricordo che quando si parla di violenza si intende anche la violenza privata e quindi anche la violenza psicologica, quindi escludendo da questa casistica i reati di violenza, anche i reati di stalking e di coso, sarebbero in buona parte esclusi laddove si parli di reati commessi con violenza. E violenza non è solo io che accoltello il mio vicino o chiunque voglia, è anche la violenza psicologica, quindi chiunque compie un atto di violenza non viene, lì in quel caso rimane la possibilità di applicare la riferazione del reato. Si parla di escludere per tutta un'altra serie di reati, la violenza non viene toccata, questo mi preme che sia chiaro, non vedremo se venisse abbrurato il referendum assassini o minacciatori di ex compagni eccetera a giro a causa di questo referendum, assolutamente noi. Qualcuno potrebbe dire, mi dica il suo pensiero, la Lega ha sempre fatto della sicurezza, il suo cavallo di battaglia non è un controsenso adesso voler diminuire il ricorso alle misure cautelari che in teoria dovrebbero servire anche proprio a questo, a garantire più sicurezza. No, come le dicevo insomma a tanti piace dipingerci come barbari, ma insomma così barbari non siamo, abbiamo a cuore i principi fondamentali del nostro Stato di diritto e come le dicevo prima saremmo stati dei folli a promuovere un referendum che allargasse le maglie per far sì che tanti presunti delinquenti, perché comunque anche per i reati fino a che non si è condannati in ultimo grado siamo sempre innocenti, però le esigenze di tutela della persona e di sicurezza prevedono che ci possa essere la carcerazione o comunque le misure cautelari anche minori rispetto al carcere. Però, ripeto, saremmo dei folli se fossero previste la possibilità di allargare le maglie per i reati commessi con violenza, così non è, ribadiamo, non si va a tutelare il principio giuridico della presunzione di innocenza e del limitare quanto più possibile le misure cautelari per chi ovviamente appunto è presunto innocente. Tant'è che c'è anche chi ha sollevato dubbi sulla ipotetica incostituzionalità di una noleggia come questa perché di fatto quando scatta la misura cautelare per il rischio di reiterazione è un po' come se si desse per scontato che il reato è già stato commesso. Cosa ne pensa Coci? Sì, c'è anche un'esigenza però di sicurezza collettiva, altri reati un po' odiosi come quello dello spaccio, come spesso lei faceva l'esempio quando si dice doveva essere in galera o non doveva esserci, il nostro centro storico non è pieno per esempio di personaggi che entrano e che escono dalle patrie galere soprattutto per questo tipo di reiterazione del reato come misura cautelare, anche questo dipende dai giudici che si vanno ad incontrare potrebbe essere togliere ancora uno strumento già per determinati giudici che trovano giustificazioni ampie già in queste situazioni, quindi si toglierebbe ancora di più uno strumento e si creerebbe un alibi, sempre dicendo che l'abuso e la carcerazione preventiva è un problema, è un problema nell'ambito della giustizia e dell'amministrazione della giustizia, non è un problema alla norma. Lucrezia ci ricordi perché non abbiamo fatto un'apertura, anzitutto si vota domenica, quando, come, un po' di informazioni utili anche per i nostri telespettatori. Si vota esatto domenica dalle 7 alle 23, i cittadini riceveranno 5 schede di colore diverso, ciascuna per appunto per ciascun quesito che viene proposto, si ricorda che bisogna recarsi al proprio seggio con la tessera elettorale, un documento di identità valido e ricordo anche che il referendum abrogativo come quello di domenica sarà valido con il suo esito soltanto se si recherà alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. Abbiamo ricercato qualche dato alle politiche del 2018, gli aventi diritto erano 46 milioni 604 mila 925, quindi la metà più uno sarebbe 23 milioni 302 mila 426, vedremo se tanti cittadini si recheranno alle urne domenica. Quorum, spada, qual è il sentore che avete come promotori del referendum? Che la battaglia è tutta lì nel senso, è raggiungere o meno il quorum, insomma le ragioni del no che rispetto, ma insomma ormai si sa che la battaglia rossa è sul raggiungere il quorum o meno, ed è il motivo per cui tanti non ne hanno voluto parlare di questo referendum, si è cercato di farlo passare quanto più possibile sotto silenzio, proprio tentando in maniera subdola di non far raggiungere il quorum, per quello è importante che tutti vanno a votare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, è dura, lo sappiamo, l'affluenza a ogni tornata elettorale, che siano referendum, che siano elezioni amministrative, che siano elezioni politiche di ogni grado, tende ad abbassarsi sempre, quindi la battaglia è già dura in partenza, ci si mette appunto la cappa di silenzio che è scesa su questi referendum, insomma avrei qualche chilo in più, ma sarei stato meglio se se ne fosse ragionato. Però ecco, è questa la preoccupazione, l'impegno nostro è di farne parlare il più possibile, perché la gente vada a votare e poi voti in coscienza, sì o no, quello che le fai. Un'ultima domanda anche per Cocci, prima di chiudere la prima parte, è stato detto che c'è bisogno di riformare la giustizia, ecco ma le chiedo, il referendum è lo strumento adatto, oppure un tema come questo andrebbe affrontato in modo più articolato, più ampio? Il referendum non è sicuramente lo strumento adatto, purtroppo il Parlamento per come è fatto, non è lo strumento adatto, abbiamo dei giustizialisti come i 5 Stelle che fortunatamente poi questa legislatura finirà, però che occupa il 33% dei seggi, abbiamo il PD che dopo lo scandalo Palamara prima era schierato e disteso sulla magistratura, adesso un po' si vergogna, dopo quello è venuto fuori e come diceva il collega Spada si è trincerato nel muro del silenzio, è sostanzialmente un no mascherato su tutti i quesiti, invece rivendico la posizione di Fratelli d'Italia che in maniera seria si pone sul no e sul sì su alcuni quesiti ma non ha paura del voto popolare. Allora io ringrazio intanto Tommaso Cocci che appunto in questa prima parte ha rappresentato il no per i primi due quesiti, voglio anche dire per correttezza che avevamo anche invitato un esponente del Movimento 5 Stelle, un movimento che però non è riuscito poi per vari motivi a mandare un suo esponente a questa nostra trasmissione, noi proseguiamo il dibattito con Spada che tanto è sempre per il sì, anche per gli altri quesiti, tre quesiti e mentre a rappresentare il no ci sarà Luca Mori che sarà con noi referente di democrazia costituzionale, restate con noi a tra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione, salutiamo qui con noi Luca Mori, referente di democrazia costituzionale del coordinamento provinciale, buonasera, democrazia costituzionale che a livello nazionale si è espressa chiaramente per il no ai cinque quesiti di domenica sul referendum relativo alla giustizia. Allora partiamo proprio da Mori che non era presente nella prima parte, anzitutto le chiediamo in linea generale perché il no a questi cinque quesiti. Allora come ha detto lei un secondo fa a livello nazionale il coordinamento si è espresso per il no, ma non si è costituito il comitato regionale né il comitato provinciale perché non si tratta sostanzialmente non si tratta di referendum costituzionali come i precedenti sono avvenuti, ma nello stesso momento perché a livello regionale e locale si richiede uno sforzo notevole a chi non è in qualche modo edotto da un punto di vista giuridico e quant'altro, in una materia che a nostro avviso, anche approfondendola, ieri sera abbiamo avuto un bel dibattito al circolo di Coiano su questo tra rappresentanti del sì e del no, tra l'altro due avvocati coordinati da un magistrato, da un ex magistrato, da un pensione, dicevo dovrebbe essere il legislatore delegato, cioè il Parlamento a operare e derimere le singole materie, dove c'è da derimere, dove eventualmente c'è da modificare e quant'altro. Il forzare con referendum molto tecnici e molto mentre in un quadro generale si portano dietro un'idea politica, per chi li ha presentati, poi ci sarà il partner che discuterà con me, la presenterà eccetera, però di fatto fanno tesorio di un approccio squisitamente tecnico che deve essere sciolto, sviluppato, se ci sono ovviamente i numeri e quant'altro, nella sede delegata, che sono le commissioni e il Parlamento nazionale. Ecco, però le potrei dire, vabbè, ma con il referendum in fondo cosa si fa? Viene abrogata una legge, poi è chiaro che questo vuoto, o parte, è chiaro che poi questo vuoto dovrà essere accolmato dal legislatore, dunque dov'è il problema? Sì, esempio buttata lì. Ci avevano detto, noi siamo, le ultime campagne referendari sono state quelle ostituzionali, quelle contro le modifiche Boschi-Renzi e quelle contro la riduzione del Parlamento, c'era stato detto, non c'era problemi, legge elettorale immediatamente entro un anno dopo la riduzione del Parlamento, quindi non è che non mi fido del Parlamento, per l'amor del cielo, anche se avrei tante cose da dire perché i lavori parlamentari sono spesso incastrati e incardinati su risoluzioni e proposte quasi esclusivamente governative e qui si apre uno scenario e magari ce lo discutiamo un'altra volta, ma insomma credo che ci sia qualcosa che non torna, perché il legislatore non fa il legislatore ma fa diciamo il cautelatore di proposte governative, mettiamolo così quando va bene, se non addirittura colpi di fiducia. Ecco, poi sentiamo anche ovviamente Spada che era con noi già nella prima parte, ma dunque secondo voi la giustizia va cambiata sì o no? Mi pare di capire che il referendum per voi non è la strada nel caso giusta? La giustizia va accelerata, ma nella misura in cui gli vanno dati strumenti, soprattutto a livello periferico, sicuramente anche a livello centrale, per far sì che l'attività giuridica, che non sono solo i processi, ma sono tutto quello che muove intorno alla giustizia civile, amministrativa, tributaria, eccetera, che non sono sempre comunque scontri tra accusa e difesa o tra lo Stato e il cittadino, ma va facilitata, che vuol dire assumere il personale e vincolare il personale quando lo assumi per concorso a stare dove lo assumi e non essere pieni di deroghe perché il personale dopo uno, due, tre anni ti si sposti da un'altra parte, tutti hanno tutti i diritti, però sicuramente la Costituzione dice che si entra per concorso pubblico nello Stato, però io mi ricordo che un tempo c'erano dei vincoli più stringenti, esempio il Tribunale di Prato lo potremmo tranquillamente portare con le difficoltà che ha, questa è prima di tutto, non solo la giustizia per il cittadino, la giustizia per lo Stato che siamo noi, che deve essere celere, il più possibile c'era, corretta, sicura, terza, quando si decide, questo è ovvio, ma deve essere il più possibile una giustizia arrivanta in piedi, è quella la vera riforma della giustizia. Spada, la convincono queste obiezioni che ha fatto? No, mi chiedevo in base a quello che argomentava, come faccio a votare no ad esempio alla separazione delle carriere. In generale, però, sono anche d'accordo che siano questioni che sarebbe più opportuno se ne occupasse il Parlamento, va detto che in questo Parlamento sarebbe impossibile, basta pensare alla posizione giustizialista e folcaiola notoria dei 5 Stelle, ma in generale negli ultimi anni non solo è mancata la volontà, ma è mancata anche la forza, per tutto un insieme di ragioni, la forza politica comune o comunque maggioritaria di portare avanti certe riforme. E quindi cosa è successo? La Lega ha preso il coraggio a due mani, ha preso insieme a Radicali e si è messa a portare avanti questa battaglia, che è vero che non sono quesiti di immediata percezione, ma insomma io non credo che l'elettorato italiano è il corpo elettorale, quindi i cittadini italiani siano così sciocchi, così scusate, stupidi da non capire, insomma le questioni non sono, ripeto, non è se è a favore, vuoi abrogare l'avorto, vuoi abrogare i divorzi o vuoi impedire l'avorto, i primi famosi referendum, è chiaro che non sono così immediati, però non sono nemmeno questioni dalle Gulei, come si usa dire, qualsiasi cittadino che abbia una corretta formazione come quella fatta da TV Prato può benissimo capire e decidere in piena coscienza. E allora, quesito 3 su quello relativo alla separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri. Vediamo il servizio. Il terzo quesito referendario chiede di abrogare le norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono nella carriera dei magistrati il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Con l'eventuale abrogazione il magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera se svolgere il ruolo di PM o di giudice. Il terzo quesito del referendum è molto tecnico, è forse tra i meno conosciuti dai cittadini, riguarda infatti la rigida separazione delle carriere tra PM e giudici. Questa separazione rischierebbe di creare seri danni al nostro sistema giudiziario. Il Movimento 5 Stelle è per il no al terzo quesito perché vogliamo scongiurare il rischio che si venga a creare una sorta di sistema accusatorio puro nel caso dei PM. Dire di no significa sbarrare la strada a chi vuole ridurre l'indipendenza della magistratura. I magistrati non devono essere posti di fronte a una scelta di base per la loro carriera proprio perché lasciando loro la possibilità di passare dall'una all'altra funzione migliora anche la loro formazione professionale. Dal radicale di più Europa vi chiedo un sì per dire basta alle porte girevoli nei ruoli per aprire alla separazione delle funzioni dove i magistrati debbano scegliere se diventare giudici svolgendo appunto la funzione giudicante o pubblici ministeri svolgendo la funzione requirente mantenendo poi questi ruoli per tutta la loro vita professionale. Oggi la commissione delle due funzioni crea un rapporto strettissimo tra pubblici ministeri e giudici che chiaramente annacqua l'imparzialità di due stultimi a favore dell'accusa. Il quesito mira proprio a rendere irreversibile la scelta operata dal magistrato al termine del proprio tirocinio fra funzione giudicante e requirente. Un sì dunque per tutelare il cittadino e il suo diritto a ottenere una giustizia degna di questo nome. Quello della separazione delle carriere tra giudice e PM è un tema che viene dibattuto da lungo tempo. Mori, l'esponente dei radicali parlava di imparzialità anacquata allo stato attuale e per questo il loro sì al quesito. Cosa ne pensi? Due cose, due elementi veloci. Il percorso della riforma Cartavia già prevede comunque una riduzione delle cosiddette porte girevole e comunque poi si potrebbe discutere di questo. Ma fondamentalmente il mio no, non convinto da questo punto di vista, è un no relativo al fatto che si può in questo modo intravedere, in via teoria, in via ipotetica, però quando si fa le leggi si deve pensare anche a questo, uno scivolamento progressivo della funzione e dell'ufficio del Pubblico Ministero, se non nell'asservimento, che sarà una parola grossa e scorretta da questo punto di vista, ma in un'azione penale, prendiamo il penale in questo caso penale direttamente indicata dall'organo esecutivo e quindi si sposta in maniera forte la possibilità all'organo esecutivo, che è il governo e poi accaduta anche i governi teoricamente, non riguardo il nostro caso, ma anche i governi a livello locale, ma soprattutto il governo nazionale, a indicare eventualmente su base annuale, se non addirittura di volta in volta, quali sono le azioni penali prioritariamente da perseguire. E qui è un nodo importante, perché si possono dare risorse o non dare risorse e addirittura favorire la carriera o non favorire la carriera, un esempio collegandomi a altri quesiti referendari, con, diciamo, se in qualche modo hai malevalorato, favorito, quelli che sono i dettami dell'organo esecutivo, il governo, e invece noi abbiamo bisogno che sia il Pubblico Ministero, la parte diciamo che difende lo Stato, sia i giudici siano più chiari della moglie di Cesare. E questo... Mi pare di capire che secondo lei un PM a vita diventerebbe quasi una sorta di avvocato a vita del Ministero della... Sì, e altri organi... Dalla gestita, però le potrei dire anche un cambio troppo frequente, alla fine non va a rallentare quello che è il sistema giudiziario... Sicuramente, ma la legge del Capio lo sta regolamentando, poi non sarà perfetta, sicuramente a livello parlamentare ci rimetteranno in mani, ma presendo che il Parlamento, che anch'io come tutti, si è contribuito a eleggere, faccia il suo lavoro. Invece Spada, che problema c'è allora a cambiare carriera? Perché un magistrato non può... No, c'è un problema rosso con una casa, insomma. Questo referendum, come i due che seguono, fanno parte, diciamo, si potrebbe chiamare del pacchetto Palamara. Nel senso, non dimentichiamoci lo scandalo che è stato legato alla figura del giudice Presidente dell'ANM Palamara, che ha mostrato profondi problemi all'interno della magistratura e guai mai a generalizzare, ma ha mostrato connivenze, ha mostrato amicizie, ha mostrato un sistema profondamente, non vorrei dire corrotto, ma gravato da quella mancanza di purezza che diceva giustamente Mori, doverci essere per quanto riguarda i giudici. Io credo che chiunque, anche lei Mori, sia rimasto scandalizzato da quello che è venuto fuori. Chiunque abbia al minimo a cuore la giudicabilità giuridica deve esserne rimasto scandalizzato. Quindi, questo è uno degli altri due quesiti, la separazione delle carriere, perché? Perché è sacrosanto e avviene praticamente in tutti gli altri paesi democraticamente avanzati che si scelga all'inizio del proprio percorso o fare il pubblico ministero o fare il giudice. Questa possibilità di continui cambi, per forza, per naturalezza, comporta una contiguità, una vicinanza tra l'istituto del giudice e quello del pubblico ministero. L'istituto del giudice dovrebbe essere assolutamente terzo tra il pubblico ministero e la difesa. Però potrei dire che questo basta, sì, perché alla fine, come in tutte le cose, sono le persone che poi fanno le differenze. Certo, ma tra essere oggi avversari, tra virgolette, perché in teoria il PM è l'avversario del giudice, nel senso che è un soggetto terzo, poi ci ritroviamo a fare 5 o 6 anni colleghi, io e lei Gisonni, e poi dopo 5 o 6 anni e dopo siamo di nuovo avversi. Lei è una persona incorruttibile e santa, però non potrebbe essere fuorviato nel suo giudizio dall'essere stato un mio collega e aver lavorato insieme per 5 anni? O 6, o 5, o 2, o 1, insomma. E non vedo come questo, mi perdoni Mori, possa minare l'indipendenza del pubblico ministero. Rimarrebbe assolutamente come è oggi, indipendente dal potere legislativo, dal potere esecutivo. Legislativo. Sì, sì, esatto. Non esecutivo. E' lì lo scivolamento più schioso. No, ma oggi il sistema giudiziario è giustamente e doverosamente un potere assoluto, nel senso che non ha freni, se non quelli posti dalla legge, ma non è soggetto al controllo. Perciò dico, oggi non cambia nulla dal punto di vista dell'indipendenza, se non il fatto di non poter fare un giorno da una parte e un giorno da un'altra. E' a garanzia anche dei pubblici ministeri e dei giudici stessi. Perché un momento, perché io posso a torto pensare che lui sia contigo con lei, perché siete stati colleghi per tanti anni, magari è la persona più integerima di questo mondo. Non direi, perché si deve non solo essere integerimi, ma anche sembrarlo. E il fatto di avere questa comunanza si scombra. Ognuno sceglie una ragliega, che problema c'è? Attenzione, quando non c'è, seppur in situazioni limitate, è ovviamente cambiando distretto, perché poi i cambi da giudice requidente a giudicante avvengono con cambio di distretto e in genere cambio di regione. Solo in quattro parti d'Italia esistono distretti della stessa regione. Ma comunque, mettiamo in via assoluta questa. Il fatto è che, paradossalmente, creando due carriere diverse, può anche succedere che ci sia quasi una situazione di sudditanza, o da parte del pubblico ministero, o da parte del giudice, di rapporto non tanto amicale, magari anche non frequentando, ma di rapporto dove non si percepisce mai che la stessa persona possa essere comunque capace e dotta nell'altro ruolo. E questo, io penso, nel nostro ordinamento, seppur imperfetto e quant'altro, porta sicuramente a migliorare la qualità, tra virgolette, dei giudici. Poi, ovviamente, serve un giudice sempre a Berlino che sia perfetto, come si dice, e terzo rispetto a tutti. Sono cose molto tecniche, però mi pare capire, secondo lei, insomma, alla fine rimescolare ogni tanto un po' le carte non guasta entro certi limiti. E rivadisco il pericolo maggiore, però capisco che qualcuno lo possa non vederlo, ma io lo vedo, uno scivolamento, magari non subito, negli anni, a una soggessione del pubblico ministero all'organo esecutivo. E mi ricordo, 20-30 anni fa, capi di governo di questo Paese, che in qualche modo volevano fare la lista delle priorità nel penale. Ma quello è un altro, lasciamo i processi all'intenzione in un'altra parte, per quanto si parla di giustizia. Ma dico, come si fa a preferire un rischio potenziale lontano rispetto a una situazione critica che abbiamo tutti misurato concretamente? Scello 0,7% a livello nazionale di passaggio tra i giudicanti e i depredi. Sì, ma come fa a essere preferibile? Separiamoli, che ci sia una persona che un giorno è giudicato e un giorno è giudicante e un giorno è controllato, un giorno è controllore, io lo trovo assurdo. Come si faccia a essere nei contrari? Comunque, rispetto alle posizioni, ci mancherebbe. Torniamo da Lucrezia, anche per qualche curiosità, relativa ad esempio un po' allo storico dei referendum negli ultimi anni. Lo ricordavamo prima, quello di domenica è un referendum abrogativo, quindi l'esito sarà valido solo se si recherà alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. Quindi la partecipazione è un dato fondamentale e caratteristico di questa tipologia di referendum. Vedendo un po' la storia dei referendum abrogativi in Italia, il più partecipato è stato il primo, quello del 1974, in cui gli italiani vennero chiamati a esprimersi sul divorzio, che più dell'87% della popolazione andò alle urne scegliendo di non abrogare quella legge. Nelle successive 16 tornate elettorali il quorum è stato raggiunto solo in nove occasioni e mai dal 1997 al 2009, tendenza che ha registrato un'inversione solo nell'ultima occasione, nel 2011, con il referendum sull'acqua, lo ricordo. Vedendo poi proprio lo storico della percentuale di partecipazione, il minimo storico è stato raggiunto in due occasioni. Il 21 giugno 2009 con il referendum abrogativo sui due quesiti sull'elezione della Camera dei Deputati e uno sull'elezione del Senato, in particolare riguardante il premio di maggioranza, si ricolle urne solo il 23,4% degli italiani. Il 12 giugno 2005, quello sulla procreazione medicalmente assistita, soltanto il 25,6% degli italiani, andò a votare. Mori, sei anche un po' polemizzato sul fatto che istituire un referendum domenica 12 giugno non sia un grande incentivolo ad andare alle urne. Lei cosa ne pensa? Mi dai là per un ragionamento che mi sta a cuore da sempre, da partecipante del circolo di libertà e giustizia. I referendum sono uno strumento importante, la Costituzione dà forza al popolo di modificare, sono solo abrogativi, sia quelli costituzionali o meno, però a mio avviso subiscono quella leggina degli anni 70, fatta ad hoc, facciamo un passaggio storico come è necessario, dall'allora grande politica, per l'amore del cielo, ma fatto praticamente Fanfani, che fece passare in Parlamento una modifica elettorale e referendare in cui i referendum non possono celebrarsi contestualmente alle elezioni politiche generali e poi ci sono state anche le europee, eccetera. Io invece ritengo opportuno, e lo dico dopo rispetto al Presidente di Seggio, che si possa tranquillamente anche governare nell'arco di un giorno, tra l'altro i paesi civili votano in un giorno, se eravamo arrivati a votare in un giorno, si fa polemia perché è un giorno solo, vabbè, si deve poter tornare a votare i referendum che diciamo fino a un massimo di 3, 4, 5, che maturano sia in Cassazione che in Orte Costituzionale, contestualmente alle elezioni politiche, quindi nella direzione dice di cercare il quorum, che è importante, perché se i cittadini ritengono, chi promuove un referendum, i cittadini possono votare, che il Parlamento non abbia per mille motivi politici o quant'altro svolto il suo ruolo, possono tranquillamente intervenire. Il quorum in quel caso, nonostante la disaffezione l'Unione ci sarebbe, primo, verrebbero obbligati i partiti politici, le liste elettorali e quant'altro a esprimersi sui quesiti che comunque l'associazione e quant'altro hanno presentato, secondo, ma un Parlamento poi eletto contestualmente alle decisioni referendari che avrebbe un obbligo morale di operare. Invece adesso i referendum avvengono quando legittimi, per l'amore del cielo, però poi ci sono dei risultati, non ci sono? Quello dell'acqua, si è sentito, vogliamo parlare di quello dell'acqua, che risultati poi... Forse abbiamo trovato un punto di convergenza fra, non lo so, cosa ne pensa Spade, sei d'accordo con questa... Moderatamente. Moderatamente. No, perché, è vero, però allora si deve ridiscutere il discorso del quorum per referendum, nella misura in cui perché non si vota insieme alle politiche, perché sarebbe un scamotage per farli passare, e lo dio contro il mio interesse in questo caso, per farli passare il quorum. Perché perché c'è l'intento di un referendum il 12 giugno? No, allora io sarei, diciamo che, astraendomi da questa situazione contingente dove vorrei davvero ci fosse il quorum. Secondo me è giusto ci sia un quorum del 50% più 1, perché essendo un referendum è una cosa che o il corpo elettorale dimostra davvero interesse di volerlo fare, oppure no. Con le elezioni la presti? Con le elezioni politiche? Appunto, di cosa sarebbe un'escamotage per farlo? Invece con il quorum... Il cittadino può sempre rifiutare la scheda. Eh sì, va bene, ma chi è che si mette a fare subito? Io dicevo bene, i cittadini sono meno sciocchi di che si pensi, ma nemmeno pensare che poi uno abbia la cosa di dire, prendo una scheda, riduzzo, riduzzo, riduzzo. No, 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 te l'assicuro che tornare a rifiutare... Sì, quanti? Percentualmente. No, diverse decine di cittadini mi hanno rifiutato la scheda. Oltre, dico la Presidente di Sede. No, no, per carità mi fa piacere, però dico sarebbe un sistema, diciamo, di superamento del quorum occulto. In generale, secondo me, l'optimum sarebbe avere il referendum, o comunque lontani, fuori dalle politiche, avendo due giorni per votare, che non si dice gli altri paesi civili. Gli altri paesi civili, infatti, votano un giorno e hanno percentuali ancora più bassi delle nostre di affluenza al voto. Poi, ora, sarà che io sono piuttosto nazionalista in questo, ma di domenica 12 giugno, tedeschi, anche se stanno a casa, non gli abbia poco. Noi di domenica 12 giugno magari si può andare in mare, un po' a montagna, si vive nel paese più bello del mondo e quindi magari si vorrebbe fare una gita fuori porta e magari andare a votare il giorno seguente. In questo caso c'è stato negato, peccato. Dico, quorum, secondo me, si staccato dalle politiche, facendo però delle doverose campagne informative, che, torno a ridirlo, è il mio credo fisso, tranne TV Prato e altri pochi esempi. Cattazio benevolente. Noi, è già la terza di faccio. E poi, potete dire, è netta di finta. No, ma non è ancora. Volevo dire ancora la via, a giro, dopo. Facciamo, magari, fuori di battuta. Abbiamo, come sempre, stato il nostro contributo. Ha fatto perché ha fatto un gran lavoro informativo, cosa che pochi, anche a livello nazionale, hanno fatto nella misura in cui avete fatto voi. A Cesare è quel che è di Cesare, è vero. Io ho citato la moglie e ti ho citato Cesare direttamente. Dobbiamo correre, abbiamo ancora, li abbiamo accorpati, quarto e quinto quesito, anche per qui si va un po' sul tecnico. Il 12 giugno gli elettori saranno chiamati ad esprimere il proprio voto in merito all'abrogazione o meno del Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 numero 25, che riguarda la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari. Si tratta del quarto quesito referendario, in cui si chiederà di abrogare le norme in materia di composizione dello stesso Consiglio Direttivo e dei Consigli Giudiziari, nonché, come detto, in materia di competenze dei membri laici, ovvero avvocati e professori universitari di discipline giuridiche che ne fanno parte. Con l'eventuale abrogazione, i membri laici prenderebbero parte alle votazioni che riguardano l'operato dei magistrati, mentre tale potere ad oggi prevede il coinvolgimento della sola componente dei magistrati. Nel quinto quesito, si chiede di abrogare la norma che richiede ad un magistrato di procurarsi da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura. Con l'eventuale abrogazione, un magistrato potrebbe candidarsi senza alcun vincolo di numero di firme. Proprio perché questi referendum sono a favore dei magistrati, in particolare questo darebbe la possibilità a magistrati bravi, singoli, liberi e indipendenti che non fanno parte di alcuna corrente, perché le correnti non sono altro che partiti, di candidarsi autonomamente, senza la necessità di raccogliere 50 firme, perché questo può farlo esclusivamente un partito. Per farsi eleggere sul piano proprio nazionale, in base all'esperienza delle ultime elezioni, bisogna avere circa 500 voti. Ora, un soggetto che ha 500 voti, cosa ci mette a raccogliere 25 firme? Minimo i 50 di massimo. Le associazioni hanno gestito le nomine dei posti principali, le nomine delle procure importanti, eccetera. Cancellare il diritto di raccogliere firme, l'obbligo di raccogliere firme, non vorrebbe dire cancellare le associazioni, vorrebbe dire sbatterle in un secondo piano più oscuro. Spato, riparto da lei. Insomma, perché avvocati, docenti universitari dovrebbero essere ammessi a dire la loro nelle valutazioni sulla professionalità dei magistrati? Beh, perché, per dire ad esempio, il mio figlio tra poco farà l'esame di terza media, avrà dei professori e non dei compagni di classe a giudicarlo. E ora, al di là della metafora, spero che si sia capita, i giudici che giudicano i giudici e guarda caso, si prendono nella quasi totalità dei casi il massimo dei voti. Sarebbe il caso, sarebbe opportuno che fossero anche gli altri membri, quindi gli avvocati e i docenti universitari che partecipano alle discussioni, ma che non possono votare, che possano anche votare. Perché sì, perlomeno si annacqui quella prassi per cui i giudici sono giudicanti e giudicati di se stessi e non va bene. Ebbene ci siano anche, perlomeno, non in toto, assolutamente, però che ci siano perlomeno anche dei giudizi soggetti che non fanno parte della stessa professione, mi pare, di tutta evidenza. Mori, invece, cosa dici? Le relazioni comunque arrivano fino al CSM, qui si parla ovviamente dei consigli a livello giudizionale, a livello locale, eccetera. arrivano comunque fino al CSM, il CSM ovviamente che è tra l'altro composto in maniera di togati, non togati e poi eletti dal Parlamento, nominati al Presidente della Repubblica, già svolgono un'azione che in qualche modo è terza perché ci sono altri membri. Però affidare e in questo modo portarglielo sui banci, potrebbero anche non essere professori universitari, noi diciamo professori universitari perché in genere ci sono loro, ma non è detto che siano loro, no? Potrebbero essere teoricamente cittadini. Forse, e qui io penso sempre all'ipotesi peggiore, perché tanto in politica si darebbe, anzi sicuramente si darebbe la stura all'utilizzo, sì in questo caso di maggiori inserimenti correntizi e politici per poter in qualche modo orientare o tacitare o incalanare o in qualche modo cassare oppure facilitare l'arriera del singolo magistrato e quant'altro perché magari si parla di professori ma potrebbero essere, giustamente si diceva anche con il cospadano altri personaggi, si parla di avvocati ma potrebbero essere anche altri professionisti eccetera. Io ho fatto il giudice laico per esempio nel mio settore, agronomo, come agronomo e forestale, si rischierebbe di portare delle professioni a orientare professioni o singoli il giudizio dei giudici a favore di particolari filoni che magari possono avere una ricaduta dal punto di vista professionale, dal punto di vista di rapporto diciamo non solo con il singolo presente all'interno del consiglio giurisdizionale ma con la corrente e questo poi si parlerà del quinto su cui ho una cosa diversa però l'anticiperò eccetera, ecco ci vedo la possibilità larvata ma potente, larvata ma potente di indirizzare… Insomma alla fine rischierebbe di essere, mi pare il capito, potrebbero diventare delle strumentalizzazioni, questi inserimenti… Dove ti dà il potere di essere censore… Ma a fine si otterrebbe secondo lei il risultato opposto di quello che il referendum… Siccome c'è un rischio… Siccome c'è un rischio… Siccome c'è un rischio… Questo dice Mori. Sì ma io delle volte preferisco un rischio di qualche cosa che non funzioni rispetto al disastro attuale, cioè il problema della giustizia in Italia è grosso come una casa, è uno dei problemi più grossi del nostro paese e queste riforme potrebbero non funzionare. Diamine intanto cerchiamo di sgretolare il sistema delle correnti, il sistema del… In quel modo tu la puoi ricreare la correnti. Tu la potresti… Rispetto a un rischio potenziale di qualche cosa che non funzioni preferisco levare la certezza di una cosa che oggi non funziona assolutamente. Ogni pessima democrazia è migliore di ogni altra forma più autoritaria. E che c'entra la democrazia? Un sistema giudiziario non funziona. No, c'entra, c'entra. Dare in mano a chi è titolare di un interesse o gruppo di interesse… Vabbè comunque… No, c'è un gruppo di interesse, i giudici se la sonano e se la cantano. Sono terzi, rispetto a loro stessi non sono terzi. Sono sottoposti alla legge. Eh, viva Dio. Sul quinto quesito invece Mori diceva che lei era… Sì, sul quinto quesito è l'unico su cui, se fossi legislatore, ovviamente non lo sono, probabilmente andrei incontro al ragionamento che fanno i presentatori del… Capisco quello che dicevano gli intervistati, Solimeno per esempio, l'ho sentito, che dice, guarda, ci possono comunque 500, minimo 500 voti, eccetera. Però, formalmente, io ritengo sempre che un cittadino, giovane, anziano che sia, debba avere la possibilità di presentarsi col suo curriculum e quant'altro. È ovvio che poi, e questo lo riconosco, l'ho detto Solimeno, che ci può essere in seconda battuta le aggregazioni, eccetera, ma tanto che ci si presentino con 25 firme, con 50 in seconda battuta, comunque ci sono… E allora io sono sempre in qualsiasi situazione perché il cittadino non abbia… cittadino o giudice, in questo caso, non abbia barriere nel potersi presentare. Quindi non è che vuoi incontro a quel referendum in quanto si abbattono le eventuali congreghe, logge e quant'altro, partite e quant'altro. No, vuoi incontro al cittadino, cioè dalla cultura azionista, per me, per me. Ognuno parte alla fine. Tutti hanno il diritto di candidarsi. Poi, giudice, andrò a leggermi se ho tempo, se ho voglia, se non sono influenzati, va a ricorrere uno e deciderò se votarlo o meno. C'è una posizione, diciamo, una parziale apertura su questo quesito, allora faccio io, insomma, un po' l'obiezione. Però alla fine, sì, se il problema deve essere quello di dare una spallata nelle correnti, le potrei dire, appunto, un po' come sottolinea anche sulle mani, poi alla fine però mi posso anche candidato, ma mi posso anche candidare senza dover raccogliere le firme, però poi devo ottenere questi voti per essere eletto, perché alla fine cosa cambia? Sì, però adesso, se non hai l'appoggio di una corrente, non ti candidi. Dopo può essere il grimaldello per scardinare il sistema delle correnti che, e lo dico un'altra volta, uno delle correnti all'interno della magistratura è uno dei grossi problemi che hanno portato alla faccenda calamara. Palamara, scusate. Noi siamo giunti al termine. Prima di salutarci e salutare i nostri ospiti, torniamo da Lucrezia Sandri perché tutta questa informazione che abbiamo fatto ovviamente la chiudiamo ricordando l'appuntamento di domenica. Allora, Lucrezia, ricordaci, si vota da che ora a che ora? Dalle 7 alle 23 domenica, moneti di testere elettorale e documento di identità valido. Il Comune di Prato, in particolare, fa sapere che vengono garantite aperture straordinarie per il rilascio della testere elettorale per chi si accorgesse anche all'ultimo momento di averla completa oppure smarrita. Quindi la sede, quella dell'ufficio elettorale centrale in piazza Cardinale Niccolò e quelle decentrate Nord e Ovest saranno aperte anche venerdì 10 e sabato 11 giugno dalle 9 alle 18 e domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 come per gli orari del voto. Allora, grazie Lucrezia, ringrazio ovviamente Luca Mori, referente provinciale di Democrazia Costituzionale, schierata per il nuovo a questo referendum, Daniela e Spada della Lega ovviamente, per il 6 ai 5 quesiti. Grazie per essere stati con noi, grazie ovviamente anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento non è fra sette giorni, ma fra due settimane, perché giovedì prossimo trasmetteremo in diretta l'appuntamento con il Corpus Domini, dunque ci vediamo fra due giovedì sempre alle 21.20 in diretta su TV Prato con Parliamoci Chiaro. Grazie e buonasera. Grazie a tutti.